Qualsiasi lavoro si trovi va bene, anche occupare il tempo con lavori socialmente utili in attesa di guadagnare qualcosa per il nostro sostentamento, racconta Mamadou, 25 anni malese, uno dei portavoci dei profughi di Vittorio Veneto. Siamo come in prigione, vogliamo lavorare e vogliamo farlo qui, torna a dire Mamadou. E la proposta di cui la CGL si farà portavoce con il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, è decisa in mattinata nella sede della Camera del Lavoro con un interprete di lingua francese, un avvocato del sindacato e una delegazione, circa una dozzina, dei profughi protagonisti ieri del blocco dell'Alemagna, per far sentire le loro condizioni di disagio, tra cui i problemi di medicine che servono ma non si hanno i soldi per poterle comprare, dice Baillo, 32enne della Nuova Guinea. Sì, abbiamo problemi di medicamento, perché quando siamo malati in questo campo è noi che facciamo i nuovi medicamenti. Questi migranti dicono che prendono 35 euro ogni 15 giorni, che sono 2,33 euro al giorno, e con 2,33 euro al giorno devono gestirsi completamente. Adesso hanno il problema che siccome si ammalano perché fa freddo e vengono dall'Africa, per prendersi la medicina per il raffreddore i soldi non ce l'hanno. Profughi, molti del Senegal, che lavori socialmente utili a parte in sintesi, chiedono di lavorare e per questo rivolgono i documenti di identità. Quindi noi diciamo, decidiamo di capire chi di loro ha qualche speranza di avere i documenti per poter rimanere qui e cerchiamo di farlo cercando di non pesare nei confronti della comunità e di non illuderli rispetto a delle possibilità che alcuni hanno ma altri evidentemente no. Grazie. 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 Grazie.